Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di Arretio Acquesio. Sono molto gravi le affermazioni dell'assessore Rometti sulla questione del pedaggiamento dell'AE45 quando rivela che la relazione economica contenente e le esorbitanti proposte di pedaggio è stata presentata dal privato al Ministero dell'Infrastruttura alla fine del 2013. Inutile domandarsi il motivo per il quale né Consiglio regionale né comunità regionale siano stati messi a corrente di ciò che si andava profilando per le famiglie e l'economia regionale. La risposta si può solo intuire e immaginare. Quel progetto deve andare avanti a tutti i costi, tanto a pagarne le spese saranno i cittadini, i pendolari e le piccole imprese Umbre, è quanto ha dichiarato il consigliere regionale Oliviero Dottorini. In una conferenza stampa, Lega Ambiente ha presentato la proposta di riforma della legge regionale sui parchi del Lazio. 280.000 ettari del territorio laziale sono in aree protette tra parchi, riserve e monumenti naturali. Lo slancio essenziale per rilanciare l'azione dei parchi stessi dovrà passare immancabilmente dalla revisione legislativa della legge 27 di 15 anni fa. Includere il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale Stina, Montepeglie e Selva di Meana tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica è quanto contenuto in una proposta di legge dai consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d'Italia, Desio, Zaffini e Lignani Marchesani che andrebbe ad apportare un'ulteriore integrazione alla legge regionale 2999, individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale Montepeglie e Selva di Meana. Nell'illustrazione dell'atto in seconda commissione Desio ha rimarcato come l'iniziativa legislativa tenga conto le istanze espresse dai territori ricompresi nell'Ostina, in particolare dai comuni e dai sindaci di Allerona, Casteldiscardo, Fabro, Ficulle, Monteleone di Orvieto, Montegabione, Orvieto, Parrano e San Venanzo. La proposta di legge composta da un solo articolo verrà approfondita con l'assessore regionale dell'agricoltura Fernanda Cecchini prima di approdare in aula per il voto. Notizie totalmente errate e forvianti, con queste parole Gnagnarini prova a tacitarne alcune legittime e corrette considerazioni avanzate dell'identità e territorio ed altri esponenti dell'opposizione in merito all'aumento del costo orario dei parcheggi insilati. Lo stesso assessore afferma letteralmente che l'innalzamento delle tariffe dei parcheggi di Via Roma e Foro Buario riguarda solo ed esclusivamente i non residenti sia del comune di Orvieto sia dei comuni limitrofi. Gnagnarini ha detto una bugia perché nel dispositivo la delibera non parla assolutamente di residenti dei comuni limitrofi, così come risulta molto fumosa la certezza che i residenti siano quelli del comune e non quelli del solo centro storico, continua il documento di identità e territorio al comune di Orvieto. In più, se la stessa delibera è stata approvata dalla Giunta Germani con la clausa dell'immediata esecutività, significa che appena verranno aggiornate le casse automatiche si applicheranno le nuove tariffe. Questo ci induce ad affermare che tutti coloro che si dovessero trovare sprovvisti di tesserina precaricata dovranno pagare 1,50 euro all'ora, siano essi residenti che non residenti. Riteniamo che questa delibera, conclude il documento, rispecchi la confusione che regna nella maggioranza che sorregge Germani e che Gnagnarini, prima di fare affermazioni pubbliche, legga meglio gli atti che approva in Giunta. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretto Acquesio. Torna puntuale, tra un'ora.